Che effetto le fa essere presidente della migliore squadra abruzzese di questo raggruppamento? Sicuramente è un grande piacere, è un onore e siamo orgogliosi di tutto questo perché noi eravamo partiti appunto per salvarci, ma non è che lo diciamo noi, anche gli addetti ai lavori, quindi tutti quanti, anche voi giornalisti, il San Nicolò Notaresco era praticamente una squadra candidata alla retrocessione. E invece abbiamo stupito tutti perché con il gioco, non dimentichiamo che giochiamo sempre con 5 o 6 fuori quota, abbiamo dei giovani interessanti tra cui il Blando il 2001 che è stato convocato con la rappresentativa nazionale Under 18, abbiamo un altro 2001 importante pure, Fabriani, terzino destro, che è dicembre 2001, quindi stiamo facendo bene, stiamo crescendo dei giovani interessanti e abbiamo dato i cuori il 31 gennaio, al Catania dove purtroppo ho dovuto cedere per il bene del ragazzo perché io lo volevo portare fino alla fine di questa annata con noi perché potesse crescere ancora di più, però è chiaro che nel momento in cui il Catania lo ha voluto fortemente ho detto va bene per il ragazzo, non tanto per noi perché noi sicuramente ci abbiamo perso qualcosa. Presidente, quindi possiamo dire che l'obiettivo salvezza è raggiunto e si può guardare avanti, mirate in alto, non c'è bisogno neanche tanto di nascondersi, il campo sta dicendo questo. No, 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 ma l'ho detto e lo ripeto, io penso che oggi con 44 punti siamo salvi matematicamente e quindi adesso dove siamo vogliamo rimanerci, vogliamo rimanerci perché credo che ce lo meritiamo e ce la giocheremo fino alla fine per poter fare i playoff.